Emergenze alloggi per sanitari e forze dell'ordine al tempo del coronavirus. L'amministrazione comunale di Teramo fa il punto sulle 69 stanze finora reperite, messe a disposizione da alcune strutture recittive terramane. Esse saranno destinate a chi opera stretto contatto con i malati di Covid-19 e che per opportunità non possono tornare a casa loro. Ad usufruirne potranno essere anche le persone in quarantena, lontane dai propri familiari. Abbiamo dato oggi un'impennata a questa richiesta continua e costante che arriva al COOC di Teramo, cioè di persone, di personale sanitario che vorrebbe non tornare a casa per contaminare, per evitare la contaminazione con i propri familiari e abbiamo con il sindaco deciso che da oggi inizieremo a consentire tutto il personale sanitario, io dico tutto, il personale sanitario, quindi di qualsiasi qualifica e parliamo, per poter accedere alle strutture ricettive che abbiamo trovato sul nostro territorio. Ne sono circa 69 stanze disponibili che abbiamo e mettiamo a disposizione. Il personale sanitario o le forze di polizia, perché anche questa è stata un'ulteriore novità che abbiamo condiviso con il sindaco e quindi con la protezione civile regionale e anche quella locale, cioè quella di poter dare la medesima possibilità agli operatori di forze di polizia, quindi poliziotti, carabinieri, guardie di finanza, polizia penitenziaria, vigili del fuoco. Nonostante l'emergenza coronavirus, il comune di Teramo non ha dimenticato gli sfollati ATER, terminate le procedure per l'assegnazione dei 59 alloggi. Abbiamo portato avanti la procedura con grandi difficoltà, anche evitando a queste famiglie di spostarsi. Siamo andati attraverso il COCCA a ritirare le domande, con una delega fatta al sottoscritto per protocollarle, quindi nel pieno rispetto della normativa, ma per dare una risposta immediata. Immediata a tante famiglie che aspettano da troppo tempo, che hanno subito degli errori e dei ritardi, di cui io al momento non voglio parlare, insomma non è il momento delle polemiche. Abbiamo chiuso questa procedura con l'assegnazione dei 50 alloggi, trasmetteremo quindi immediatamente all'ATER tutta la documentazione e auguriamo ovviamente all'ATER un buon lavoro per questa seconda fase, che è di competenza dell'azienda, perché ovviamente compatibilmente con la situazione che stiamo vivendo possano essere consegnate subito queste case. Intanto sono già arrivate al comune di Teramo 60 domande da parte di famiglie bisognose per ottenere buoni pasto. La situazione sembra procedere con ordine, mentre l'assessore al welfare, Ilaria De Santis, annuncia l'apertura di un ulteriore sportello dove consegnare le richieste di aiuti alimentari. Queste ore siamo raggiunti da tantissime PEC e anche molte persone che stanno andando all'ufficio protocollo per depositare la loro istanza. Devo ringraziare gli uffici del sociale, il dottor Cupaiolo e la dottoressa Cerqueti, che in questi giorni instancabilmente hanno lavorato affinché noi potessimo iniziare questa procedura in tempi record. Tant'è che già da oggi, in realtà già da ieri, sul sito del comune è apparsa la domanda. Grazie.